La verità mi ha sempre curato Finalmente ho trovato il modo di dirlo Che è questa storia In questo film E allora la storia la racconto davvero Io a scuola non ero mai il primo della classe Sempre il secondo, il terzo, anonimo I ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato E vivevo perennemente frustrato Poi però ho cantato per la prima volta Il mondo è cambiato Era tutta una rovina Ma evidentemente bisogna demolire prima della ricostruzione, no? Esiste un dietro fine, basta volerlo Non importa come cadi Importa solo come ti rialzi Se recuperi alla grande La cosa che più ricorderanno di te È come ti sei rialzato Fermo agli ostacoli Accetto miracoli Tutti sappiamo cosa sono i trailer Piccoli frammenti di film finalizzati a promuovere delle pellicole in uscita Ma chissà il significato della parola Trailer significa letteralmente rimorchio E il nome deriva dal fatto che in origine Questi venivano proiettati dopo la fine del film È tutto per oggi Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale cliccando qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao!